Ragazzi io partirei dal titolo del film, Gli Attassati per chi magari non è siciliano, Gli Sfortunati perché questo titolo? Perché proprio ha due significati, il primo quello che conosciamo noi benissimo che è Gli Sfortunati e poi in Italia vuol dire pieni di tasse e penso anche che l'etimologia degli attassati venga da questa parola perché chi è pieno di tasse è sfortunato, una parola vecchissima, quindi abbiamo trovato questa parola con i romani, che è la produzione romana e abbiamo deciso di chiamarlo Gli Attassati. Sfigati pieni di tasse praticamente. Allora mi sa che avete un po' accennato alla trama, possiamo dire qualcosina? La storia di due ragazzi che sommersi dalle tasse del post pandemia decidono di fare una rapina un po' alla casa di carta ma all'interno di Equitalia, che lì si chiama Equitù, e rubare i propri debiti. Quindi tu vai in un posto per fare una rapina senza soldi, rubare le proprie cartelle esattoriali. E cancellare i propri debiti. Un errore e cancelleranno tutte le multe, quindi una città senza debiti è una città bella, che poi vedrete nel film. Il film è un posto non posto, è nel sud, in una cittadina del sud. Che si chiama Pantama. Che si chiama Pantama, quindi non è Napoli, non è Palermo, non è Catania, non è in Puglia. È nel sud, quindi è un posto fantastico diciamo. La prima sold out sia a Palermo che a Catania, ve l'aspettavate questo risultato? Vabbè sì, sono i teatri sale piccole, abbiamo fatto 400 posti qui a Palermo ieri sera, stasera c'è Catania e a quanto pare siamo pieni, quindi vabbè dai, i siciliani ci vogliono bene, lo sappiamo. Speriamo che in Italia vada come in Sicilia. E per chi non avesse trovato il bietto per la prima, dal 31 di agosto invece su Amazon Prime. Sì, su Amazon Prime il 31 di agosto uscirà il giorno. Il giorno in cui si pagano le tasse. Quindi perfetto, noi vogliamo non pagarle, a trovare un metodo qualora vi arrivasse una cartella esattoriale. Perché poi la tassa si pagano, però le cartelle esattoriali si rubano. Il tuo primo lungometraggio come è andata? Bene, molto bene. Poi ho girato questo film con questi due pazzi, quindi è stata una bella esperienza. Si è creato subito un bel clima, siamo entrati in sintonia e quindi siamo divertiti tanto. Poi eravamo tutte e due in trasferta perché loro vengono da Palermo, io da Roma abbiamo girato a Napoli. Quindi insomma ci siamo trovati in questa città che non era né la mia né la loro e ci sono trovati molto bene. In questi casi come funziona? È il regista che sceglie gli attori protagonisti o sono stati gli attori a scegliere il regista? Né io né loro in realtà, ma mi hanno fatto questa proposta alla produzione e chiaramente era il film con loro e c'era già la sceneggiatura. Io ho proposto alcune modifiche sulla sceneggiatura e poi insomma sono stato scelto per fare la regia. Anche a te chiedo, abbiamo detto le due prime sold out nel giro di 24 ore e te l'aspettavi questo risultato? Beh loro qui già sono in casa quindi sì me l'aspettavo perché chiaramente il loro pubblico è forte su Palermo e anche su Catania, insomma sulla Sicilia. Quindi non poteva esserci posto migliore per fare la prima.